Avete ideato un servizio innovativo? Creato un oggetto rivoluzionario o persino dato vita a un nuovo e appassionante fumetto? Ora però dovete trovare i fondi per trasformarlo in qualcosa di concreto. Vi spiego come fare tra poco qui su Tech Princess. Negli ultimi anni ha preso piede il crowdfunding. Si tratta di una raccolta fondi che viene fatta tramite internet e che si basa sul contributo di gruppi molto numerosi. Su questo principio si basa Kickstarter, una delle piattaforme di finanziamento collettivo più conosciute ed usate al mondo. Qui troverete davvero di tutto, film, gadget, eventi, servizi, opere d'arte, videogame e persino corsi di cucina. Tutti infatti possono proporre qui il loro progetto con l'obiettivo di raccogliere fondi e trasformarlo in realtà. Attenzione però dovrete rispettare qualche semplice regola. La prima fa sì che vengano accettate solo quelle idee che potranno poi essere messe a disposizione di tutti. Insomma, non potete chiedere l'aiuto a Kickstarter per ristrutturare casa. Se però volete creare un corso su come riparare il tetto, rifare il bagno o dare nuova vita alle pareti di casa, ecco, quello potete proporlo. La seconda regola è l'onestà e la chiarezza di intenti. Tutti coloro che creano un progetto su Kickstarter devono spiegare bene di cosa si tratta e per cosa verranno usati i soldi. Le donazioni sono libere ma non completamente disinteressate. Ogni progetto infatti prevede diverse ricompense associate a diversi importi che possono andare da una pacca sulla spalla fino all'invio del prodotto una volta commercializzato. Non tutto però è facile come sembra. Per ottenere i fondi bisogna raggiungere il proprio obiettivo in denaro, fissato all'inizio della campagna entro un determinato periodo di tempo. Se non vengono soddisfatti questi due requisiti, Kickstarter rimborserà gli investitori. L'esempio più eclatante è Oculus Rift. La campagna di raccolta fondi di questo visore per la realtà virtuale ha infatti portato Kickstarter alle luci della ribalta. Il progetto ha raccolto oltre 2 milioni di dollari e ha permesso ad Oculus Rift di diventare il primo vero visore per la realtà virtuale dedicato davvero a tutti. Oculus Rift è solo una delle tante idee che sono diventate realtà grazie a Kickstarter. E non è nemmeno quella che ha raccolto più fondi. Pensate che lo smartwatch Pebble Time ha superato i 20 milioni di dollari, mentre Coolest Cooler, un mix tra un frigorifero, uno speaker e un frullatore, ha ottenuto 13,2 milioni di dollari. Con Kickstarter tutto ciò che vi serve è l'idea giusta, al resto ci pensano gli utenti. Naturalmente non siete obbligati a visitare il sito solo per presentare le vostre idee. Potete infatti controllarlo periodicamente per vedere se c'è qualche invenzione interessante su cui investire anche pochi spiccioli. Prima o poi qualcuno potrebbe inventare proprio ciò di cui avete bisogno. Direi che per oggi è tutto, io vado a vedere quali nuovi progetti sono comparsi su Kickstarter. Voi nel frattempo visitate anche il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!